C'è stata una dichiarazione di impegno. Io, sottoscritto Yassin Lafram, presidente della Comunità Islamica di Bologna, mi impegno nella mia veste ufficiale affinché venga data dignitosa sepoltura presso il cimitero islamico di Bologna e nel rispetto del rito funebre islamico alle vittime del naufragio di Cutro, come richiesto dai familiari. Inoltre mi impegno affinché i rimangano seppelliti all'interno del cimitero islamico e che negli anni non vengano né cremati né trasferiti al di fuori del perimetro del cimitero islamico di Bologna. Questo è una nota stampa che ci ha inviato il prefetto di Crotone, Carolina Ippolito, e dovrebbe tranquillizzare quelle famiglie che hanno deciso di portare le salme dei propri parenti a Bologna. Noi siamo sempre qui davanti al palamilone di Crotone e dobbiamo dire che i migranti che sono qui che vedete con delle coperte seduti per terra hanno deciso di rimanere qui anche questa notte, di non spostarsi perché non sono convinti di quello che è stato detto. Insomma si è creato un po' di confusione nonostante il sindaco abbia spiegato nei dettagli tutto quello che si farà per loro, loro hanno deciso di trascorrere la notte qui all'aperto. Hanno avuto la vicinanza e la solidarietà come al solito di tanti crotonesi, gli hanno portato insomma qualche panino per farli mangiare, un po' di tè caldo, delle bibite, delle coperte, ma loro resteranno qui tutta la notte.